La depredazione di beni culturali e storici è tra le prime forme di crimine organizzato transnazionale. L'Interpol stima che il mercato elecito di beni culturali realizza profitti di aumentare superiori alle 8 miliardi di dollari all'anno. Solo il traffico elecito dei stupeficienti e di armi genera maggiore entrate. Grazie a complesse attività investigative è stato possibile individuare un'organizzazione criminale transnazionale composta da 12 persone che detenevano illegalmente i dipinti di cui oggi vediamo esposto Leda il Cigno, olio su rame del XVI secolo dell'artista Lelio Orsi.